Sabato 4 giugno 2022 alle ore 17.30 presso la palestra comunale di Perito in provincia di Salerno si è tenuto l'evento energie e sinergie culturali durante il quale vi è stata la presentazione del manuale antologico ospitalità extralberghiera di Raffaele Palumbo, la presentazione del progetto di comunità energetica rinnovabile ed infine l'inaugurazione della biblioteca comunale. Grazie per essere intervenuti. Quest'incontro oggi ha toccato diverse tematiche. Sembrano che siano dislegate tra loro le raccomandazioni trattate nel convegno, in realtà hanno un unico comune filo conduttore. Il comune filo conduttore è la cultura dove noi ci battiamo da tempo per cercare di portare avanti con piccoli passi la cultura, quindi il simbolo della cultura deve essere necessariamente la biblioteca. Per legare le persone al territorio c'è bisogno di dare la possibilità di sopravvivere economicamente e questo può essere fatto tramite un turismo, un turismo lento. Il turismo lento che cosa prevede? Prevede una ospitalità diffusa sul territorio, quella che viene chiamata ospitalità extra alberghiera. Comunità energetica significa una cooperativa di comunità. Noi partiamo dal concetto di cooperativa di comunità. Abbiamo immaginato di cominciare a ragionare sul concetto di cooperativa di comunità e quindi cooperativa energetica. qui siamo appoggiati al nostro presidente Salvatore Scafuri di Confedilizia, il quale ha già una sua esperienza in materia e ci propone questo progetto da portare avanti. Lucila Ballivo, consigliera comunale. Allora un bilancio di questo incontro? Che dire, un successo per i temi che si sono trattati, che erano tanti effettivamente, ma che sono stati inglobati nell'apertura della biblioteca proprio perché sono tutti temi relativi alla nostra cultura e alla nostra identità. E quindi una presentazione di un libro in cui si è parlato di attività extra ricettive e in più si è parlato delle cooperative energetiche rinnovabili che sono il futuro. Ormai le troviamo in molti contesti anche del nostro cilento, sono state già avviate progettazioni di questo tipo. La biblioteca meriterebbe effettivamente una trattazione a sessante, ma senza volerti rubare altro tempo ti dico che invece la biblioteca è stata veramente il più grande sforzo che l'amministrazione fin dall'insediamento ha voluto perseguire perché era volontà di tutti noi quella di avere uno spazio per i nostri giovani ma per la nostra comunità in generale che non sia soltanto di lettura e quindi una considerazione di una biblioteca classica di vecchio stampo, ma deve essere una biblioteca adeguata anche al servizio che può fornire ai giovani e quindi luogo di incontro, luogo di scambio, luogo di conoscenza, luogo di crescita. Grazie.